Momento difficile per Barbara De Santi nella puntata di Uomini e Donne del 6 novembre 2024. La dama si accomoda al centro dello studio per un confronto con Vincenzo, il cavaliere con cui sta uscendo scoprendo della presenza di Ilaria che non solo è uscita con Vincenzo, ma è stata anche baciata da quest'ultimo. Barbara, così, decide di fare un passo indietro e di chiudere con Vincenzo. «Non ho alternative», commenta la dama, che poi decide di aprire il proprio cuore, lasciandosi andare a parole importanti. «Vincenzo è la prima persona che sento, l'ultima con cui parlo. Facciamo continuamente videochiamate». «Guarda, Barbara, questo vuol dire che sei innamoratissima? Ci siamo visti due ore e in questa settimana ci sono stati degli atteggiamenti che non mi sono piaciuti e che mi hanno dato fastidio, e te l'ho detto anche». Ribatte Vincenzo, che non ha intenzione di rinunciare alla conoscenza con Ilaria. «Io non sono abbastanza leggera da accettare che lui baci altre. Per tutti i progetti che abbiamo fatto non mi aspettavo questo. Ma sempre io sono quella sbagliata? Cosa ho fatto questa volta?» Dice Barbara. «Come finisce, Maria?» «Come sempre. Mi viene un nervoso con me stessa. Mi viene. È così difficile trovare una persona con cui provare qualcosa. Ma cosa devo fare? Devo aspettare i tuoi tempi?» aggiunge ancora la dama, che poi decide di lasciare il centro dello studio. «Che senso ha restare qui se mi piace solo lui? Lo devo vedere fare il galletto? Avrei voluto tanto ballare con lui, ma al momento ho ribrezzo di lui», le dure parole della dama. Poi, tornando sulla scelta di Vincenzo di uscire anche con Ilaria, aggiunge, «Guarda, io penso di essere tutto e penso che lei sia zero, che non è alla mia altezza e se sceglie lei vuol dire che non capisce nulla». Maria prova a far ragionare la De Santi che, però, non torna sui propri passi. La maestra è tornata alla carica e la furia placida è qualcosa che dovrebbe decisamente incutere terrore. Barbara De Santi ha iniziato a conoscere Vincenzo ed è apparsa entusiasta, tanto da regalare all'uomo un bacio passionale dopo ben un anno e mezzo che non baciava nessuno per sua stessa ammissione. «Vincenzo è un uomo finito», concluso. «Il suo percorso è andato, ma lui ancora non lo sa e lo scopre nello studio di uomini e donne oggi». Il cavaliere, infatti, ha espresso la decisione di conoscere meglio anche altre donne e Barbara, sebbene inizialmente avesse retto botta mostrandosi superiore. «Quando scopre che Vincenzo ha baciato Ilaria, esplode di rabbia, velo pietoso sull'atteggiamento della De Santi nei confronti delle altre donne, con quell'aria saccente che nasconde senza dubbio la ferita amorosa che sanguina, ma che non possiamo perdonare nel 2024, perché le donne non possono essere le peggiori nemiche delle altre donne». Barbara prova una forte attrazione per Vincenzo e in studio confessa in maniera diretta. «Alle 6 e 30 del mattino è la prima persona che sento, è l'ultima persona che sento prima di andare a letto, videochiamate tutto il giorno, a me piace molto». Il cavaliere, però, ritiene che la dama gli abbia rivolto fin troppe attenzioni e riflette «Barbara, noi siamo usciti due ore, te ne rendi conto? Ci sono stati degli atteggiamenti in settimana che a me hanno dato noia e te l'ho anche spiegato». Barbara, invece, si sente ferita dall'atteggiamento di Vincenzo che, oltre ad aver baciato Ilaria, non dà il giusto peso alle attenzioni che la dama gli riserva. «Io mi sono rinchiusa nella mia zitellaggine e ci stavo bene. Lui mi ha fatto ricordare quanto sia bello condividere le cose insieme e ora mi smonta tutto. «In questo momento voglio stare con una persona allegra che non mi riprende sulle cose che faccio», spiega Vincenzo, e aggiunge ancora «Voglio una relazione leggera, non una donna leggera». A questo punto Barbara decide di chiudere la conoscenza e scoppia in lacrime. «Io non sono abbastanza leggera da accettare che lui baci questa e baci l'altra. Sempre io sono sbagliata. Ogni volta la stessa storia. È così difficile», conclude la donna. Lo scontro con Ilaria Barbara nel corso del litigio con Vincenzo se la prende indirettamente anche con Ilaria. «Tu, pensa, non ti dà fastidio lei che salta da un letto a un altro e ti do fastidio io». Immediata la replica della dama. Modera le parole. «È la verità, l'ha detto qui in studio», replica Barbara. «Per forza che tu stai sempre da sola e non ti prende nessuno. Ma chi ti prende?» «Srenia», conclude piccata Ilaria. A sostegno della dama arriva anche Ida. «Barbara non è bello quello che hai detto verso di lei. È un po' forte». «Srenia».